accensione fotocamera vedi non va ma esco fuori perchè dentro c'è troppo colore vedi l'HDR ora sta disattivato ora lo attivo attivato vabbè dietro c'è la desiro questo si toglie questo è scritto samsung vedi qua ti faccio vedere impostazioni infotelefono versione 6.0 c più core 8 8 core versione kernel deve fare anche gli aggiornamenti attuale ci da bene questa è la confezione vabbè non pensare qua profono vedi pesante non è leggero di ferro eh alluminio no plastica non è leggero vedi so